Buongiorno, buongiorno, prendiamo posto per favore che inizia la conferenza stampa dei 400 giorni, funamboli e maestri, appena, ecco siamo quasi tutti pronti, allora da quello che ho e che leggo abbiamo Emanuele Napolitano, Emanuele Sana, ci siamo? Daniele Orazzi, lui l'ho visto, Vittoria Spaccapietra che è sceneggiatrice e Dino Vannini di SkyArte, ci siamo tutti? Benissimo, in prima fila Cesare Ari, Jacopo Massara, Chiara Merulla, Leo Ferrari, Sara Short, Carla Mori, Martina Piraino, Damiano Lepri, Carola Costa, Beatrice Cati che credo sia la compagna e consorte di uno dei registi, poi ci sto pure io perché faccio parte del film, adesso prendetevi le vostre responsabilità. E aggiungo Roberto Pisoni anche, dai. Benissimo, grazie, grazie Daniele. Allora, vorrei che la sala partecipasse perché ripeto come è mia consuetudine, le mie domande, se ci fosse il direttore del festival approverebbe e confermerebbe quello che sto per dire, le mie domande sono di una banalità sconcertante quindi preferisco che qualcosa di più intelligente venga da chi è in sala. Però vabbè, insomma, inizio. Senti Daniele, visto che sono coprotagonista del film... Uno degli attori principali. Quindi ti chiedo conferma che tutto questo è stata una cosa che nasce due anni fa, quando c'avevamo le mascherine, l'Italia forse... l'Italia, il mondo tutto, stava lentamente uscendo fuori da un incubo e tu come rappresentante forse della tua società di casting e agenzia hai avuto un'idea. Ce la racconti? Sì, l'idea nasce ancora prima da una pubblicazione che abbiamo fatto di 1200 copie, abbiamo mandato in giro a tutta l'industria, per Natale, con dei profili dei giovani talenti che rappresentavamo in agenzia, con le prefazioni, insomma, di grandi personaggi dell'industria cinematografica. Da lì, poi, con il mio gruppo di lavoro, tra cui Vittoria, Beatrice, Martina e Dante, siamo andati in giro per l'Italia e con la collaborazione di alcune commission e soprattutto la prima in assoluto, proprio qui a Torino, abbiamo fatto delle tappe in Italia dove abbiamo selezionato, dopo una attenta preselezione fatta in ufficio, abbiamo selezionato alcuni ragazzi. Alla Colsi sono iscritti più di mille ragazzi, dalla preselezione abbiamo fatto una bella, importante scrematura, abbiamo visto oltre 300 ragazzi in giro per l'Italia e da questi 300 ragazzi, nelle varie tappe, Torino, Milano, Napoli, Roma e altre, se qualcuno ne sfugge, da queste varie tappe abbiamo poi scelto i 24 talenti, under 30, perfettamente bilingue, che secondo noi rappresentavano, fra quelli che abbiamo visto, un po' l'eccellenza di quelli che abbiamo incontrato in questi tre mesi, diciamo, di tour. Si è chiamato proprio dot tour casting, abbiamo fatto una sorta di marketing anche intorno a questo progetto. Da lì l'idea, mentre lo facevamo e vedevamo il successo, anche la volontà da parte di questi ragazzi di partecipare a questo progetto, l'idea di documentarlo, di accompagnare i ragazzi nei loro primi 400 giorni di carriera, quindi dal giorno zero, da quando li abbiamo scelti, da quando li abbiamo un po' introdotti nel mercato, perché quasi tutti loro erano comunque alle prime armi, pochi di loro avevano già fatto qualcosa, li abbiamo, tra virgolette, fatti debuttare con un incontro a loro dedicato e poi da lì li abbiamo seguiti per 400 giorni, più di un anno in cui hanno avuto la possibilità di fare molte esperienze, poi questo magari ce lo diranno anche qualcuno di loro, tra cui molte masterclass sono venuti a un paio di festival, hanno incontrato moltissime persone e da lì abbiamo documentato tutto questo mischiando un po' anche i loro racconti personali, confrontandoli con i divi del passato e anche del passato e del presente. Quindi diciamo ci sono quattro generazioni di attori, perché ci sono quelli in bianco e nero, che gentilmente insomma con la collaborazione dell'Istituto Luce abbiamo avuto la possibilità di incastrare questi racconti, ci sono gli attori del passato e gli attori del presente, perché ci sono grandi partecipazioni da appunto Marinelli, Cagliazzo, Foglietta, D'Amico, La Voce di Paolo Genovese, che è stato il loro padrino. Ma c'è anche in via, però si vede Paolo poi, non c'è solo la voce. Quanto te forse. Sì, forse quanto me, certo io un po' di più e poi io risalto di più. Forse per il mio trascorso da attore. Poi tra l'altro volevo fare proprio una domanda rispetto a questo. Quindi abbiamo avuto, e ieri mi hanno corretto, abbiamo avuto tantissimo materiale, moltissime ore di materiale, raccolto in questi due anni, che poi sapientemente, materiale girato da Druid, in arte Druid, da Napolitano, e poi sapientemente montato e codiretto dall'altro Emanuele. Eh sì, anche perché un film del genere, se non c'è veramente un'attenzione nel montaggio, nella scelta dei materiali, poi alla fine si rischia di fare un bel minestrone. Invece questo è un film molto fluido, molto agile. Tra l'altro, approfitto, parlavi delle film commission, approfitto per salutare il numero uno della Piemonte Film Commission, Paolo Monera. Che è stato il primo veramente a darci fiducia, poi da lì insomma altri due colleghi, da Firenze a Napoli. Domande dalla S.A. E tutto questo con l'aiuto di scrittura di Vittoria Spaccapietra che è... A cui volevo rivolgere la mia domanda, se non c'è una domanda che viene dal... Eccola qui. Vogliamo sentire... Buongiorno, sono Elisa Gnanni del CineDumps e ricollegandomi a quello che diceva lei, ossia che l'idea del documentario è partita con il tour praticamente. La mia domanda originale era da dove derivava la volontà appunto del titolo in 400 giorni, che chiaramente richiama i 400 colpi. A questo punto mi chiedo, il titolo era già preventivato oppure è venuto dopo e si è deciso appunto di seguire questi 400 giorni proprio per ricollegarsi a questo titolo. E in secondo luogo faccio direttamente già un'altra domanda. Volevo chiedere... 10 euro. Ok, ci sistemiamo dopo. Volevo chiedere, alla fine di questo primo tour, mi è parso di capire che fosse il primo, ci saranno poi... cioè ci sarà un nuovo tour, magari anche un terzo e così via. Grazie. Grazie della domanda, innanzitutto. Ti rispondo subito alla prima che è facilissima, perché no, il titolo non c'era all'inizio. anzi, conservo gelosamente sul telefonino una lista di possibili titoli che sono stati condivisi con il mio gruppo di lavoro, veramente molto lunga. Poi a un certo punto quando mi è venuto in mente questo, insomma ci è venuto in mente questo, mi ha colpito subito, perché veramente avendo visto tutto il materiale, e dico, caspita, raccontiamo veramente un pezzo di vita di questi ragazzi, ma anche un pezzo di vita nostro, perché come loro sono cambiati, siamo cambiati anche noi facendolo. E quindi volevo dare un segnale, appunto, anche insomma il collegamento con il film originario non è casuale, è anche la locandina che ha disegnato Napolitano, non è casuale, perché è lo stesso protagonista, girato al contrario di spalle, che vedo l'orizzonte. Quindi no, il titolo è venuto dopo, alla fine, proprio in fase di montaggio, direi, decisamente è stata l'ultima cosa che abbiamo deciso, anzi. Poi c'è stata un'indecisione, perché appunto c'è anche il sottotitolo, quindi c'è stato, io ho voluto conservare anche il sottotitolo che qualcuno non voleva, però io ho voluto, qualcuno vuole alzare la mano qui, perché volevo proprio che fosse, anche se minimamente di da scalico, però che si capisse subito che c'era un incontro tra generazioni. Questo per me era molto importante. E invece sul futuro del progetto non lo escludo, diciamo che la particolarità di questo progetto è che per la prima volta, anche se io faccio scouting da 33 anni, però è la prima volta che sono andato io nelle città dei ragazzi, mentre ho sempre ricevuto i ragazzi a Roma che volevano, cambivano, insomma comunque a una collaborazione. Questa volta Maometto è andato alla montagna. Esatto, quindi questa volta la differenza è proprio questa, forse l'origine di tutta la particolarità è proprio questo. Però è stato, scusa aggiungo, per dare contributo all'aspetto positivo di quello che avete fatto, e in un periodo del genere secondo me era proprio doveroso andare a cercare, perché eravamo bloccati anche psicologicamente, forse per un certo verso lo siamo ancora per alcune cose, però insomma. Quindi non escludo che ci possa essere un futuro, anzi lo spero. Quindi preparatevi agli 800 giorni. Ogni tre anni, perché è anche molto faticosa, quindi non ciclicamente ogni anno, ma forse ogni tre anni, è un progetto che si potrebbe fare, anche per dare la possibilità a un reciclo generazionale di attori, insomma. Domande? Vado io? Allora, vorrei parlare con Vittoria Spaccapietra, la sceneggiatrice, come ha impostato la sceneggiatura di questo film, che in realtà poi veramente aveva innumerevoli possibilità di scrittura. Esatto, diciamo che la particolarità... Scusa, tastino, perfetto, se dovrebbe accendere... Ecco, benissimo, grazie. La particolarità è stata che è un progetto che è nato perché sentivamo che il materiale, che in realtà era iniziato semplicemente per raccogliere i video dei provini dei ragazzi e un po' delle loro backstory, chiamiamole così, abbiamo sentito che c'era veramente tanto altro dietro. Ora, la particolarità è che è un progetto appunto unscripted, quindi non c'è un copione, perciò a un certo punto del lavoro abbiamo detto ok, deve prendere una direzione in scrittura e allora abbiamo tirato giù una specie di scaletta, un canovaccio che raccoglieva quello che era successo e quello che pensavamo sarebbe successo di lì alla seconda parte, diciamo, del viaggio, dell'avventura. Quindi è stato un work in progress. Costante. Il fatto è che, essendo una cosa ispirata e presa dalla vita che accadeva, continuavano ad accadere cose in più, diverse, che magari ci facevano virare in un'altra direzione. Quindi, diciamo, siamo partiti un po' da questo lungo canovaccio che prendeva ciò che era successo, cercava di prevedere ciò che sarebbe successo e poi ci siamo indirizzati verso ciò che accadeva nella realtà. È stato importante anche il montaggio in questo, perché diciamo che la fase di scrittura è andata oltre, fino all'ultimo minuto, perché il montaggio è stato un po' una riscrittura in base a tutto ciò che avevamo raccolto. Una piccola curiosità. Nelle scene, nelle sequenze in cui si vede voi che provinate, tra virgolette, questi ragazzi, avete dei fogli davanti, delle domande precise. Erano cose che anche quelle mutavano col passare dei giorni e con l'arrivo di altri ragazzi, oppure erano sempre le stesse? No, i fogli che avevamo era il materiale dei ragazzi che incontravamo, quindi erano i loro curriculum, le loro foto e soprattutto le loro lettere motivazionali, perché ogni ragazzo che abbiamo incontrato doveva prima, per accedere anche, scriverci una lettera motivazionale sulle motivazioni che avevano, sia per incontrare noi, ma anche per affrontare questa carriera. Quindi questo è stato un parametro piuttosto decisivo anche nella scelta. Le domande venivano, per quanto mi riguarda, venivano abbastanza di getto. Si facevano in base alle persone che incontravamo, per quanto mi riguarda, non erano mai le stesse. Qualche curiosità? Vado allora io, come al solito, peggio per voi, ripeto, le mie banalità poi rimangono nell'aria. Domanda ai registi, poi scegliete voi se volete rispondere alternativamente a cosa. Voi avete eseguito il progetto dal primo all'ultimo minuto, vero? Ed è stata un'avventura impostata come? Chi risponde? Inizialmente, non avendo, diciamo, uno script fisso, quindi un grande racconto, siamo andati all'avventura. Infatti, funambolico, penso sia l'aggettivo più azzeccato, perché funambolico è il mestiere dell'attore, ma è anche funambolico il metodo di ripresa che abbiamo adottato di seguire questa vita dell'attore, giorno per giorno, di giovane attore, giorno per giorno nelle sue avventure. Sì, io devo dire che io parto dalla fine. Puoi partire anche dal centro. No, parto dalla fine che mi viene più facile, nel senso che se penso alla molle di lavoro che è arrivato quando abbiamo ereditato, che ho ereditato, perché, diciamo, noi dividiamo con Emanuele la regia di questo progetto però diciamo che è come se ci fosse stato lui l'ha preso dall'inizio andando avanti e io l'ho recuperato da quando è iniziato il montaggio aggiungendo poi quello che mancava. Allora, il primo elemento è di sicuro la sorpresa perché le interviste delle quali veramente voi ne vedete poche frasi all'interno del documentario avevano veramente un mondo dietro e chiaramente vedendo questi ragazzi che comunque partono e poi pian piano iniziano a fare provini iniziano a crederci chi ci ha creduto prima poi inizia a crederci di più oppure si convincono di quello che possono fare insomma grazie anche a quello che Daniele gli ha fatto vivere è un è un elemento molto emozionante e ancora più emozionante uno strato sopra sono gli attori di oggi hanno detto Daniele bene Luca Marinelli Silvia D'Amico Anna tutti quanti che la cosa pazzesca è che in queste interviste a me ogni tanto sembrava di vedere l'attore agli inizi perché sono stati talmente tanto liberi nel raccontarci la loro esperienza d'attore che è un altro grado di emozione a questo si somma e questa è stata una grande fortuna l'archivio dell'Istituto Luce io ho avuto la fortuna chiaramente di poter pescare a piene mani cosa che non capita quasi mai nell'archivio Luce e ci sono delle interviste lunghissime ad attori che adesso insomma li vedi arrivati qualcuno purtroppo non c'è più ma che anche in quel caso hanno una tale libertà e ingenuità di racconto ad esempio c'è ci sono un po' di cose che mi colpiscono ad esempio non lo so Franco e Ciccio cioè abbiamo un pezzo in pellicola della sigla iniziale e loro avevano questa faccia invece contrida perché si vede che avevano appena ricevuto una critica enorme l'ennesima ai loro film e quindi davanti alla macchina da presa perché è pellicola che arriva tra l'altro dalla Cineteca di Bologna erano proprio affranti e quindi vedi quello oppure non lo so l'intervista Volontè che chiaramente è nell'Olimpo degli attori che a un certo punto dopo 40 minuti di intervista guarda l'intervistatrice e dice però poi uno l'attore alla fine lo fa un po' come vi pare sì ma io credo che quello adesso secondo me quello è fondamentale perché poi uno rimane l'attore che è nel momento in cui vive l'esperienza attoriale cioè io che ho fatto l'attore e mi è capitato anche recentemente di rifarlo io sono quello di 40 anni fa cioè non sono quello che potrebbe essere l'attore uno di questi ragazzi a cui auguro il massimo del successo no ma esattamente io penso che le emozioni rimangono sempre le stesse assolutamente ma rimane anche la convinzione della figura assolutamente infatti il documentario viaggia su questi tre binari passato presente futuro ma è un grande documentario sul mestiere dell'attore si fanno tanti documentari sul cinema cinema sul cinema film on film forse meno sulle paure e sui sogni dell'attore sono le stesse ad ogni livello di carriera e infatti dal montaggio e poi dalla storia si vince questo sì sì è una cosa non solo trasgenerazionale ma anche insomma sarebbe infatti quello che dicevamo anche con Emanuele ieri è questo cioè è un documentario ma credo che i 400 giorni sia un documento cioè mi piacerebbe fra 10 anni esattamente 10 anni pescare insomma i ragazzi che io tra l'altro trovo bravissimi quindi anche il lavoro di selezione è pazzesco cioè non so io ho visto i provini anche degli altri li avrei preso tutti esattamente è strano perché poi un regista sai a un certo punto arriva in un momento in cui dice guarda voglio recitare solo con le marionette perché non ne posso più però poi invece c'è un amore enorme verso gli attori proprio un documento socio-antropologico esatto esatto assolutamente e quello era un po' l'intento eh quello era un po' l'intento in effetti originario ma si evince ed è quasi un lavoro scientifico sul avete colto nel centro 5 minuti ancora per possibilità di fare domande per evitare anche di ascoltare la mia voce no allora Sky a questo punto Sky sapevo che avrei dovuto dire qualcosa eh sì eh sì si mi dispiace ma io sono il film cioè voglio dire più di così io mi spongo quindi esponetevi anche voi vorrei sapere intanto come è stato accolto il progetto e il futuro di questo film allora anche io lo vorrei sapere infatti ancora abbastanza fumoso perché diciamo che finita la circuitazione festivaliera non abbiamo ancora una data rimessa in onda detto questo il progetto ovviamente ci ha convinto dal principio eh ci è stato presentato molti molti anni fa da Daniele e mi ricordo che il primo teaser creato da noi era First Blood il nome era First Blood e è Young Blood mi sa Young Young Blood insomma qualcosa con Blood e ci ha convinto perché è una grande riflessione sul talento è cosa che seguiamo col canale con tanti dei nostri contenuti sul sacro fuoco che spinge gli artisti nel lavoro della loro quotidianità e che li aiuta a rialzarsi dopo ogni caduta e diciamo nella ricerca costante di quel momento in cui riescono probabilmente a soddisfare il loro peggior critico ovvero se stessi e dall'altra parte l'altra cosa su cui abbiamo riflettuto molto ed è stato illuminante perché noi comunque facciamo televisione e con Sky abbiamo facciamo sì che i talent show diventino i nostri prodotti di punta ecco i 400 giorni è un prodotto che è completamente in assenza della storia cioè di ansia alla competizione non c'è questa parte ma c'è molto viva quella quella scintilla energetica che che hanno alcune persone che è qualcosa che che le rende quasi magici ovvero la capacità di emozionare gli altri grazie grazie a te e soprattutto a questo punto io però direi che la cosa più importante che deve uscire fuori da questo da questo documentario questa è una mia considerazione è che questi ragazzi abbiano successo e ti posso già tranquillizzare sul fatto che questo è già un dato di fatto perché quasi tutti loro in questi 400 giorni hanno lavorato e molti di loro hanno lavorato ad altissimi livelli come protagonisti di film di serie coprotagonisti è una cosa che veramente a noi perché io ci ho sempre creduto però con 33 anni di esperienza non immaginavo che i risultati potessero essere così veloci invece la preselezione evidentemente è stata talmente precisa che la risposta del mercato è stata proprio immediata e quindi grazie ai 400 giorni e grazie a voi grazie tanto grazie mille grazie a tutti grazie a tutti